Io mi ero preso appunto alcuni appunti e procederei per punti per essere più sintetico. Intanto l'incontro tra lavoro e psichiatria mi sembra giusto ricordare che quando la psichiatria non aveva nessun altro strumento, quando è nata, il primo strumento di cura su cui ho puntato è stato proprio il lavoro. Il lavoro è per tutti gli psichiatri dell'Ottocento l'unico modo per aiutare le persone ad attivarsi e strapparle alla noia. Faccio un grosso salto con la rivoluzione basaliana che è già stata ricordata da Serafini. A questo valore del lavoro come strumento per strappare le persone, la noia che crea poi cronicità, si è aggiunto un altro valore del lavoro che è quello di creare reddito e di dare dignità alla persona. A me ha colpito una frase della testimonianza che ha aperto la tavola rotonda di stamattina. La frase era, sapere di essere utile mi ha fatto rinascere, diceva questa ragazza. Mi ha colpito perché la stessa frase, sostanzialmente uguale, la troviamo in una delle testimonianze di pazienti al termine di un documentario importante che documenta appunto l'esperienza basaliana che è i giardini di Abele. C'è un paziente che dice proprio esattamente la stessa cosa. Ancora, in riferimento all'esperienza basaliana, vorrei ricordare che 50 anni fa, oggi abbiamo sentito Gianna Sessarego parlare della scoppa meravigliante dell'astrello, ma 50 anni fa nasceva la prima cooperativa che aveva l'obiettivo di inserire appunto le persone con disagio psichico nel mondo del lavoro. era la cooperativa Lavoratori Uniti che poi è stata intitolata appunto Basaglia. Un altro salto, nelle linee guida della NICE, cioè del National Institute for Clinical Excellence, il lavoro è nominato tra gli strumenti indispensabili nella CUR, che devono essere a disposizione dei pazienti schizofrenici che desiderano appunto cimentarsi con il lavoro. E questa linea guida, oltre a dire appunto che tutti i pazienti schizofrenici che lo desiderano devono avere una possibilità di avvicinarsi al lavoro, siamo molto lontani evidentemente da questo obiettivo, dicono anche che però per coloro che non possono usufruire di un inserimento protetto devono esserci altri strumenti di avvicinamento al lavoro, strumenti più bassi diciamo. E questo mi fa venire in mente quanto diceva stamattina il dottor Sottili, proprio a proposito del fatto di prevedere strumenti di avvicinamento al lavoro, anche per quelle persone che non possono accedere immediatamente ad un pieno ingresso protetto nel lavoro. Ancora mi fa venire in mente quella parte dei nostri utenti che non desidera qualifiche stigmatizzanti nel senso della disabilità, però desidera ugualmente avvicinarsi al lavoro. E anche a questo proposito mi sembra che l'apertura che c'è stata stamattina da parte del dottor Sottili sia stata importante. L'ultima cosa che è quella di cui mi si era chiesto di essere io a parlare stamattina, l'importanza che nell'aiutare il paziente, il soggetto appunto, nell'avvicinarsi al mondo del lavoro, le agenzie non marcino disgiunte, non marcino separate perché la persona è una, è un lavoratore di cui si occuperanno le agenzie preposte all'inserimento lavorativo, ma è anche la stessa persona con la sua sofferenza della quale si occupa il centro di salute mentale. E anche all'interno del centro di salute mentale dobbiamo sempre ricordare che la persona è una e quindi è necessario che gli operatori più impegnati sul versante dell'inserimento sociale, assistenti sociali, terp, eccetera, e chi si occupa più del percorso clinico, lavorino in modo sinergico perché l'esperienza ci dice che il lavoro riflette sulla salute, le persone che lavorano sono molto più contente, ma naturalmente risentono degli stress e lavoro correlati in termini di salute e la salute, cioè il decorso clinico, impatta poi sulla possibilità di lavorare sul rendimento lavorativo. Quindi credo che appunto lavoro e salute devono procedere in modo non divaricato perché se si procede invece in modo divaricato non si va lontano. Grazie.